Io volevo solo dire, prima che riprendiamo, volevo solo dire che io il giorno in cui uscì The Blues Brothers in Italia, andai al cinema, entrai alle due e sono uscito a mezzanotte. Sì sì, anche tu eh. E quindi niente ecco, potete immaginare il livello di bellezza, di emozione ad essere qui sul palco con Lulù Marini, Lulù Marini, Alessandro Chiappetta, Gianluca Diglienno. Io sono Ezio Cirilli e vi ringrazio di essere qui. Buon ascolto e buon seconda sera. 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 Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. . 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. ... 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione